Ciao ragazzi, tutto bene? Oggi vi farò vedere come faccio la crema a base di burro di karité. Scusatemi la mia voce ma ho un po' di raffreddore e niente, iniziamo! Gli ingredienti che utilizzo sono il burro di karité sciolto nel microonde, l'olio di cocco, olio di mandorle, la vitamina E, olio di ricino e olio d'oliva. Inizio mettendo il burro di karité sciolto nel frullatore, potete anche utilizzare un frullatore a mano, anzi è più facile utilizzare il frullatore a mano ma io non ce l'ho quindi utilizzo il frullatore normale. Adesso sto mettendo dentro due cucchiai di olio di cocco, un cucchiaio di olio di mandorle, un cucchiaio di olio di ricino, un cucchiaio di olio d'oliva ed infine due gocce di vitamina E. E non è stato altro che frullare tutto insieme, è molto facile. Ed ecco fatto, guardate la consistenza molto cremosa e facile da spalmare sulla pelle e sui capelli. Sto versando il miscuglio dentro i contenitori. Sto versando il mio video. Sto versando la crema dentro i contenitori più piccoli, quindi ho utilizzato un sacchetto per facilitare il versamento. Questo è il metodo che utilizzo per preparare la mia crema a base di burro di karité. Non utilizzo molti ingredienti perché il burro di karité in sé fa miracoli. Spero vi piaccia questo video e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale Cynthia Sissi. Un bacione a tutti, ciao!